Sono state presentate le linee guida per la redazione del nuovo piano dei porti e delle coste del Lazio. A illustrare lo studio elaborato dalla Giunta regionale, la Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la sede di Via Cristoforo Colombo. Sin dal mio insediamento ho detto che il Lazio doveva sviluppare una politica che guardasse ai porti e quindi più in generale al mare. Abbiamo insediato una cabina di regia che insieme all'assessorato per la mobilità e alle direzioni ovviamente competenti hanno elaborato delle prime linee guida per lo sviluppo della portualità nella nostra regione, linee guida che saranno osservate nei prossimi 20 giorni dalla cabina di regia stessa per poi appunto diventare lo strumento principale per procedere al nuovo piano per i porti. Siamo arrivati e abbiamo trovato 46 richieste di ampliamento o di costruzione di nuovi porti che a nostro avviso non si inserivano in maniera sinergica con quello che è l'ambiente, quella che è l'economia, quello che è lo sviluppo sociale, quello che è il sistema infrastrutturale. Quindi rispetto a questo, considerando che lo strumento è assente nella nostra regione dal 1998, abbiamo posto oggi le basi per procedere appunto ad uno sviluppo integrato del sistema della portualità con tutto il resto del territorio. Alla presentazione è intervenuto anche l'assessore regionale alla mobilità e al trasporto pubblico locale Francesco Lallobrigida. Questa è la prima pietra per realizzare un piano di programmazione, di pianificazione organica del sistema portuale del Lazio rispetto alle esigenze reali per dare regolarità rispetto alle tante questioni che sono state poste negli anni. Abbiamo tante domande e tante richieste per lo sviluppo dei porti, noi le vogliamo mettere a sistema, fare ciò che è utile, ciò che permette di rispettare l'ambiente, ciò che porta turismo, ciò che porta economia e lavoro. Questo è l'obiettivo dell'Aggiunta e per questo abbiamo presentato le linee guida del porto. Abbiamo parlato di una regione che guarda al mare, è questo il vero obiettivo che ci poniamo. In realtà riallacciando il nodo della storia, in questa nostra regione da 2700 anni si naviga con ambizioni di fare della navigazione un mezzo che porti a maggiori economie, che porti a maggior speso specifico di coloro che praticano questo tipo di vocazione. Per anni, gli ultimi però, si è fatto poco. Dal 98 non ci sono atti di coordinamento e di programmazione seri. Questo è il primo. L'abbiamo fatto concertando, all'interno dell'Aggiunta, senza spendere fondi esterni. È interamente fatto su studi che magari giacevano nella nostra regione da tempo o viaggiavano in maniera parallela. L'abbiamo integrato, abbiamo portato questo all'interno della cabina di regia del mare che vede presenti i ministeri, la Guardia di Finanza, la Capitana Rete di Porto, le province, i comuni, per avere le loro impressioni, per valutare insieme come andare avanti ed avere finalmente qualcosa che serva, che serva a tutti, soprattutto che serva alla nostra regione. Si tratta in sostanza di un'analisi preliminare approfondita del sistema portuale laziale per individuare scenari ed obiettivi al fine di arrivare a una pianificazione integrata e sostenibile delle aree costiere della regione. L'obiettivo è creare un circuito portuale che affermi ancora di più all'interno del Mediterraneo il ruolo del sistema Lazio, in considerazione inoltre della sua collocazione geografica quale regione al centro dei traffici e degli scambi nazionali e internazionali. Fra gli obiettivi l'intensificazione delle autostrade del mare per lo sviluppo del trasporto nazionale merci e passeggeri, la creazione delle metropolitane del mare per il collegamento fra i porti e con le principali località costiere, l'incremento dei posti barca e la crescita dell'industria cantiristica. Lo sviluppo del turismo e delle economie passerà inoltre attraverso l'incremento delle aree dedicate alla nautica minore con l'individuazione di nuove forme di capacità ricettiva e di qualità, il tutto nel rispetto delle normative ambientali e paesaggistiche. La gestione del territorio dovrà infatti tenere conto delle analisi sul rischio ambientale effettuate sulle macro aree della compatibilità idrogeologica del fenomeno dell'erosione e delle zone soggette a vincolo.